Il professore si chinò. Visto che lo spruzzo d'acqua non aveva avuto alcun effetto, il professore si chinò. Era debole di vista e solo nel chinarsi vide come il pugno del compagno aveva ridotto il viso del suo alunno. Si inginocchiò e incollò l'orecchio al petto del ragazzino. Restò così qualche secondo preoccupato. Gli sembrò che il cuore del ragazzino non battesse più. Quando il professore si rialzò i compagni e la preside e gli altri professori capirono. Un brontolio sordo inarticolato serpeggiò. Chiamiamo l'ambulanza. Telefono io, disse la vicepreside. La preside tremava di rabbia e di paura. Disparve oltre la porta della terza C. Era nuova in quella scuola e quell'incidente doveva capitare proprio a lei. L'ambulanza giunse veloce nel cortile della scuola e il medico di turno comparve davanti al ragazzino svenuto. Gli sguardi dei presenti conversero su di lui. L'uomo iniziò a premere ritmicamente il petto del ragazzino. Continuò per più di un minuto fino a quando giunse un segno di vita e il risveglio. Le palpebre del contuso erano socchiuse e le labbra gonfie e sanguinanti scoprivano i denti in una smorfia che assomigliava ad un sorriso. Il medico si rialzò e l'insegnante di matematica, l'intellettuale della scuola, gli chiese. Dottore, io qui insegno matematica. Qual è il confine tra lo stato di veglia e lo svenimento? Il confine varia da persona a persona e a seconda del motivo dello svenimento, rispose il medico. Se il motivo è semplice, come in questo caso, chi sviene vive il primo o il secondo sottopiano del piano astrale. Se invece il motivo è più complesso, lo svenuto vive gli ultimi sottopiani del piano astrale e non si risveglia facilmente. Se il motivo è definitivamente complesso, non si risveglia ed entra in coma, che può durare più o meno a lungo o può immettere lo svenuto nel trapasso. Perbacco, commentò il professore ironicamente. Perbacco, ripetè il medico. Se lei mi prende in giro, perché non ha fatto questa domanda alla sua matematica? Le ha dato mai risposte?